Il carbonio presente nei suoli è dalle 2 alle 4 volte maggiore rispetto al carbonio presente in atmosfere. In termini assoluti abbiamo circa 1.500-2.400 miliardi di tonnellate di carbonio stoccato nei suoli terrestri contro le 600 miliardi di tonnellate di carbonio presente in atmosfera sotto forma di anidride carbonica. Da questi numeri si evince che è fondamentale il ruolo che rivestono i suoli nel bilancio complessivo di gas serra. L'iniziativa 4 per 1000 lanciata all'interno della COP21 dell'Accordo di Parigi del 2015 su cambiamenti climatici invita tutta una serie di attori, aziende private, agricoltori e governi a implementare delle pratiche agricole che siano maggiormente sostenibili volte a incrementare proprio la sostanza organica presente nel suolo. Un incremento del 4 per 1000, che è il valore che è stato identificato dal gruppo di lavoro di questa iniziativa, sarebbe sufficiente a contrastare l'emissione di gas serra di natura antropica. Grazie per la visione! Grazie! Grazie! Grazie!